Una macchinetta da battaglia, una mitragliatrice, boom 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 boom, rime su rime a ripetizione, una valanga di flow, ecco qua, come al solito, pen pen pen, io vivo a fianco di un fottuto cantiere e quindi di conseguenza c'hanno i botti in continuazione, porca puttana che nervoso, da due anni e mezzo. Vabbè, comunque Vegas Jones, grande, grande Vegas, grande Veggie, è uno dei pochi che ancora comunque il mestiere lo sa fare, ho visto delle cose, lui comunque ha frequentato un sacco di gente dall'Abruzzo e si vede, infatti lo ha chiamato prodotto, qui certe sostanze le chiamiamo prodotto, dice vado a Pescara, saluto a tutti i ragazzi di Pescara. E niente, c'è poco da dire, se non che è certo che non avrà mai più il successo di Malibu, cioè una hit del genere ti esce una volta sola, è chiaro che col tempo si scende, perché comunque questo ragazzo continua a spaccare, continua a fare qualità, anche se la metrica, l'accentazione è un po' sempre la stessa, la solita, ma perché comunque è il suo mood, ha fatto questa scelta, un po' come Jamil, se tu prendi una canzone di Jamil sono tutte quante nello stesso stile, nello stesso mood, anche quando cambia. E così anche Vegas Jones, ha la sua actitude, la conserva e la porta, però perlomeno spacca, perlomeno senti l'impegno, perlomeno senti la rabbia, l'esigenza, uso sempre questa parola, l'esigenza, senti la voglia di riconfermarsi. Ecco, invece non senti il tentativo di fare la hit, ma senti il tentativo di affermarsi a livello tecnico e questo mi piace, questo mi piace, questo mi fa dire bella veggie, questo mi fa dire, è chiaro che non avrai gli stessi numeri di certa gente, è chiaro che comunque stai utilizzando il tuo spazio, i tuoi follower, la tua fanbase per fare quello che ti piace, continua a farlo nonostante tutto. Ecco, questo è il concept, perché una volta che comunque hai fatto il disco d'oro, hai fatto tanti click, hai una fanbase, a che serve a tutti i costi essere al primo posto? Essere innovatori si può una volta, non è che si può innovare la musica centomila volte. Lui è stato in quel gruppo, è stato in quella, ecco, adesso invece le persone che arrivano vanno e vengono qui a fianco, che parlano, che ci vettano le vecchiacce di merda, ci vettano e quindi non abbiamo l'unplan. Cercasi più che studio professionale, cercasi dignità a livello professionale, siamo tra i primi podcast d'Italia di Spotify, se qualcuno, qualche radio, qualcosa vuole darci un po' quello che meritiamo, quello che merito, perché sono io con un microfono, quindi almeno al mio microfono, la dignità, siete sempre in tempo per farlo, io comunque faccio, vado, monetizzo, la gente clicca, la gente ascolta e sono indipendente, posso andare avanti tutta la vita. Però, insomma, ormai sono due, tre mesi che sono sempre in top podcast, sono stato anche primo sulle tendenze e roba, mi sembra assurdo, siamo il podcast italiano, il tema musica più cliccato al mondo e non si sente nessuno all'orizzonte. Sarà il format che non piace, sarà che dico la verità, comunque, Bella Vegas, continuo anche tu a fare il possibile, a dire la verità, monologato podcast supporta, insomma, nonostante le difficoltà, ecco, tu avrai le tue, io c'ho le mie, come puoi vedere. Big up, ciao a tutti, wagyu!